In questa nuova live per l'evento a Lutlake, Dotto saluta, speriamo che non mi crasha, che è la quarta volta che la faccio Ragazzi, vabbè l'ho fatta a cazzo, Dotto mettiamoci il visitatore con un uragano e un metto iperplano, lascia fu lì Allora, Dotto anche lì, allora Devo sperare, raga, comunque mi vorrei scioppare tanto la skin sogno, ma non le vi pacco perché è fighissimo Io ho qua, oh, cazzo c'è conicina, 50 euro quello là gratis, che me l'ho dato, forse me li compro Raga, so, arriva, legava io, raga, voglio dire se il codice dei 50 euro funziona No, no, è inutile, secondo me Raga, scusate un attimo, voglio dire se funziona, ma devo chiamare anche mio fratello, glielo devo dire Raga, chiamo anche mio fratello Il fatto del codice dei 50 euro che mi hanno regalato Totto zitto Oh, Dario Oh, tanto tempo fa, no, tipo verso marzo, no? Io avevo vinto un codice dei 50 euro sulla playstation, voglio vedere se funziona, va bene Dario Avevo vinto No, no, pare che stava questa pagina di Instagram Se la taggavamo ci dava questo codice che potevamo salire dal primo marzo, dal primo maggio E volevo vedere se funzionava per sfizio, capito? Sì, sì, ti posso mandare anche la foto Allora facciamo quando ci stai tu, eh, va bene A tutti quanti, a tutti quanti Ah, può mai dire mai Ah, può comunque, ciao No, 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 Dario me l'hanno regalato, lo giuro No, 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 metto Allora se tu dici così non lo metto, va bene Tanto arriva il messaggio Ciao Raga Tanto no, sul parco non funziona l'evento Faranno una modalità a parte Quindi mo facciamoci delle coppie Faranno tipo Tipo l'evento di Marshmallow No, no, ma raga, l'evento di Marshmallow l'avevo una... Faranno totto, però che... C'è, la skin è bella, però un sogno, è bella totto Ma mi sembra un barolo cattivo Galaxi maschi, galaxi femmina E' bellissimo, sogno C'è la Bassolino che mi ha fatto vedere la storia Ha fatto la storia su WhatsApp E l'ho vista Vabbè, a me la vedo va nera C'è, ci sta Però sogno, sogno, sogno Dove totto, e invece sono stato stronzo Se non mi scioppavo colpo di arcobaleno Mi scioppavo leader squadra rosa Che mi piace un casino, ma Prima mi piaceva reggere dell'amore Ma leader squadra rosa Sono San Valentino, che stavo facendo Però anche la pace mi piace E' carino, rapace, mi piace No, ma io ma... Visto che le sfidette è abbastardinario Dall'anni V-Buck Io mi faccio altri 700 V-Buck su Salve E mi compro Un rapace, una skin leggendaria tipo Corvo Le pietà Sì, sì, io domani ho fatto Mi do aiutare Devo fare giusto A squadra con un amico La squadra delle monete ce l'ho fatta Lo so, lo so, lo so Allora, totto, oggi ci saranno tre venti Lo sai? E quale sono, io? Ci sarà quella sponda Il vulcano che rutterà Che distruggerà Pinnacoli e Corso Quello è sicuro Lo sai? Quella sponda che si aprirà il fatto Lo dobbiamo votare E poi Picco Polare si creperà Penso che si rompa Penso che Picco Polare Ah, beh, totto sarà la stagione 2 Però dall'inizio della 2 Che cazzo La dovevano togliere No Dai, ma sto laggando No Raga, forse dopo riavvio la live Non lo so Riavvio la connessione, raga Perché non si può giocare così Ragazzi, adesso come sto giocando Oh, oh, fe Totto qua dietro da me Penso Totto, anche quando aveva visto Anzi non li vedova nero Ho detto What the fuck Si è proprio Ciao, amore Oh, stronzo Vabbè, totto 78 di vita Me lo faccio un magnet Totto, devi andare a morire Beh, regà Non so come sto giocando Dai, uno Zero spettatori Palla Ora sto calando Io credo in te Io invece non sto laggando Oh No 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 Io non sto laggando Totto No, no Io non stavo laggando Ho 50 di ping Ah, perché forse la porta chiusa Perciò non passa la connessione Bargì abbassa quella musica Ragà, aspettate un attimo Perché cazzo si sente mia sorella? Totto, mettete il visitatore Di mortale Non si dice Ma che poi? Che piccole ho? No, non mi devo mettere una canna Totto, ma si è di uguale a me Però, che ha detto Ma non ci mettiamo No, totto no Totto no No Ragazzi Che poi a ogni evento Mi metto sempre il visitatore Non l'ho capito perché sinceramente Sì, sì Perché penso Ritornerà il razzo Ma se il razzo si è schiattato Da client archici Totto, atti Nel mio stile Perché a me piace Sempre il primo stile Di visitatore Allora, ecco Ma ti do con Totto, ma per la fine Quando Cioè, quando Fini Quando Finirà Fotta Il nostro account Che fine farà Tu te lo vendi Io sì Minimo 100 euro Ma ce la me la faccio Sì Ha voglia Ho speso Ho speso Tipo 300 10 euro Ma pure di più Pensa Il mio account di salva Solo per Il nocturno Acqua 50 euro vale Vabbè Pure tu A me 106 Furpack Leggendari Boys Furbito Ma hai detto Che glielo ridavi La roba A quello Totto Non si fa Totto Se ti possono Segnalare pure Se tu L'hai fatto Live E ti fanno Chiudere L'account Lo sai Oh Ma perché sempre a tilt Ciao Salute a sto live Ciao Ciao Ma solamente C'è nessuno Entra nella mia live Sempre Che quattro Spettatori Però Ti devi mettere Il visitatore Il visitatore Do c'è Il visitatore Pazzo Non hai Una delle skin Più epiche Del gioco Pfff Che è Di Dove te lo sai Oh Dove te lo sai Dove te faccio Eby Bari Sig No Cazzo Eby Bari SIG Fredo Peppistola Mori Mori Anch'io Oh Oh A coglione L'ho messa La drappola Oh Ma l'ho messo Quanto Ho fatto la stanza Vado a giocare Oh ma il visitatore E' quella cosa Che è Come adesso Della Sì No Non lo tengo Io ce l'ho Tutti Io ce l'ho Tutte Io ce l'ho Tutte Voglio invece ce l'ho Tutte Io Quanto I'm Prigioniero Emo 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 Rovino Emo Ce l'ho Tutte Anto Guarda Visitatore Totto Visitatore Gendarme Gendarme Dove cazzo I'm Prigioniero Ma perché Non ha senso Con la skin Anto Mettiti qualche skin Nella stagione 4 Però Dei buoni No Mi metto Allora Raga Ok Totto Vedi La mappa Non è attualmente disponibile La modalità Creativa Il parco Giochi Vedi Totto L'evento Non si può Vedere Totto Ando Facciamo Il visitatore Oh Ando Facciamo Allora Si Giora Tutto Fai twist Addirittura Insieme Gagha Facci La live Gagha Facci La live Cosa Vabbè Già Gagha Gagha Giti 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 3 2 1 Aga Giochi 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 come è bella questa schiena, raga qualcuno che me la shop io ce ne ho tre dovete morire no 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 prima ce la avevo tre prima ce la avevo in zero, ma ce ne ho tre atto ma perché ti sembra gentilità, atto è passata di modo atto è proprio gustino in merda, atto te lo dico la stagione è quasi finita, attento di pass battaglia sono iniziato, eh babba, non so leggere guaga, mi si mettono il pass battaglia a livello 200 guaga, che cazzo ci arriva guaga, almeno mettono almeno mettono altre 100 ricompenze in più quindi altre, fanno 15 skin totto, 15 skin a pass battaglia no 16, anzi 16 almeno minchia ah eh cazzo è vero, si si si, 7 per 2 fa 14, scusa scusa non so fare neanche le so belline eh raga, atto poi tu parli a scuola che c'è 4 io ce ho 10 a scuola io ce ho 10 a scuola, atto eh si, ha parlato di Gesù Cristo ha parlato eh eh si, sono Gesù Cristo in grossa infatti vanno i mesi in capa rossa ho fatto tutti atto comunque tu appizzi sempre a cortiere c'è qualcuno, quando ti qualcuno dice qualcosa ti arrabbi sempre cioè te lo dico tutto è vero quando finisce la live ci facciamo un'ambasciata ragazzi ma lo sta facendo la live, vieno in grossa ah 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 perché ho il visitatore ah mi metto, mi metto qua cosa da YahVedger mi metto a me no ca purio c'ho detta plano raga scusoteto ste' viato la partita наша prima ci sei ho tutte il mezzo no fac to bitte rimanimi la cesta la mia casa è estda in grossa ma ragazzi darmi colpi darmi colpi non mi mette nessuna wifi ma poi c'è il wifi no c'è il wifi fai giu guarda c'è uno no non ti curo dammi il pompa dammi il pompa dammelo non ti curo raga me sto laggando non mi curo ma non mi so fare la live ma ti togli il wifi ma non me la ma porco a dito raga non mi fa del bestigliare per piacere ma tutto tutto e poi sto pure nel party di tutto quindi c'è l'abbonamento di merda ma mamma da che se ne fottano voglio sapere mamma da che se ne fottano eh non lo so eh no ma che se ne fottano voglio sapere io tu mi dice non cerco nessuno non cerco nessuno che vado a fare davvero eh non si può totto ma sto bordello di una vodafone i vengati magati ma è meglio la vodafone però i abitano a parte no è solo che io quando faccio nel live largo e poi sto pure una parte dove non si c'è la connessione non prende bene c'è ma che cazzo c'è te li pink è crashato no raga io ho 70 li pink secondo me all'evento crash sicuramente wow se all'evento crash io stai morto fino a milano raga sono marzo comunque raga sono marzo allora è crashato vado sei crashato viva mamma mia signore no lo so ragazzi non ragazzi non si vede il segno ok ora si vede stavo dicendo che stavo là ok raga sono le 8 mamma mia mamma dice da come ora stai giocando da mo ah beh totto almeno almeno a corso non elimineranno niente totto a corso elimineranno solo la piazza c'è questa casa rimane totto lo sai questa casa rimane ecco io non so che mi sarei interrotta potrebbe essere significato un problema totto io non so che ho pushato totto io l'ho pushato vedi il modo posso dare ok è messo a terra tanto di quanto pure lei fatto un attimo sto venendo è totto è totto tranquillo c'ho anche una postata 50 della torta ma non mi prendevo la connessione scusate raga scusate soffiato la partita prima ma c'è questi problemi di connessione almeno salivate totto sono le bende ti faccio le bende totto fatti le bende totto raga raga salutato la è la totto oh raga un'altra slutta me ne doppi a pistola che hai totto la vuoi la slutta vabbè quello raga è un bongoloide è totto tanto sta una cappa bianca qua giù bella ma tu non ci vedo ma la mando totto della trama ti manda un tuo vicino sciocato allora tu vuoi fettare con me io tu uccido e sono inutili queste bombe perché comunque se te le metti dittano lo stesso raga io ti vedo raga salutate nella mia live raga scusate se oggi sto un poco nervoso ma mi man so appunto io staccondotti ma che cosa tanto guampa nei me la faccio io me la faccio io ragazzi segnala c18 su youtube ciao che erano quitta foto di alò rota di erano ant purple o ve segnalo 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 oh antono eh toto eh discri-disco toto eh iscriviamoci al canale youtube di antonio così vogliono meno iscritti ma vuoi abbandonato vero toto come fa allora voi io so c'è la memoria come si è fatta sicchia a tono e ti mangio i patatini o brode andò o quitti o ti facciamo bannaro però toto a me sinceramente mi piace di più la skin costume di star lord toto con noi ci piace toto ad hoc a che bel ballo che ti ricordi quando mi faceva questo ballo per chi non l'ha giocato oggi ah vai regalo se possiamo fare i server privati facciamo endgame con i server privati così diventa thonos si ha una torto parco giochi e creativo no ci sto ah l'ha torto al pavimento in lava perché prima sta dammi leader allora antono metti di carburo facciamo la storia su endgame tipo degli avenger io divento thonos eh raga aspetta le stagioni passivino sfide del boss battaglia si inizia di competere sfide per ottenere dove si metti da rendire se noi facciamo il squadro facciamo meglio no e se caso ma che abbiamo un ingorsore indicato un ego l'export ma io mai no non si può fare tutto da devo avere dobbiamo avere minimo mille scritti su youtube così uscita la password e metti non riempire ando si te gioca va bene ma lo potrei comprare ma lo potrei comprare ma io tutti e tre live possiamo stranissimo tot e poi non vedi se caso ma ripeti messaggio a mister petto ti entra in live poi non puoi vedere ah come escono i nomi vuoi vedere i trasmi dove fai trasmissione impostazioni avanzate poi mi sono insieme se ecco qua totta l'ho torto ma totta l'ho è un casino no totta l'ho sa ma tu rampe ghiacciate lo conosci rampe no ma prima che 9 teneva mi sono dimenticato eh no ma c'è per una settimana a cambiato no no prima era rampe ghiacciate all'inizio della stagione mi ricordo ma hai chiamato l'ho la settimana scorsa a pista polari mo rampe ghiacciate oh tanto ti ricordi quando abbiamo fatto lo tanto ti ricordi quando abbiamo fatto lo stadio a parco pacifico quando stato il campetto da calcio mamma mia sii ah tu non puoi capire niente tanto lascia più la tico guarda tu me l'hai fatto vedere l'amico da boh no l'amico da boh dammela tico dammela tico dammela tico se ho fatto la tico ho fatto abbiamo una buona abbiamo una buona squadra la più grande torta la facciamo su creativa con i bug che si può andare nell'altra isola no marty gli ha messo l'overboard marty va port marty abbassa la voce attivanti no inizio ho iniziamento a breve mi sta scritto in game event ma perché mi sono iscritto all'evento tanto capi sai che ma power nei server ma è ma è impossibile tanto ma se mi sono creato un altro canale di youtube che mi chiamo power proprio power e un altro mister peto che trovano la gente nelle live ma c'è un altro che si chiama power per far capire c'è perché voglio fare trollare la gente che sta in live oddio poi infatti uno ci ha creduto che io non mister peto no vabbè il mio canale farò ritrolla così ha più iscritti ragazzi poi mi contatterà mister peto dice perché il mio canale youtube infatti amaro io sulla play mi crederò io sulla play mi crederò un secondo canale unico mi farò un secondo account sulla play raga raga avete un po' una pistola bianca per me perché tengo un frutto il fucile da fantaria raga comunque era la rami come aveva fottuto la deagle mamma mi voglio col cazzo e lutto che tengo voglio che cazzo di lutto tengo voglio a cappa bianco doppietta troppa del nonno blu e poi non rimango niente e poi non rimango con niente ok perché totto che ha trovato ok se non mi sbaglio qua sta un'altra bunker se non mi sbaglio no che arma hai totto vediamo al vero col mirino quella ma che schifo ho totto con che alle alle otto e quaranta e cinque quittiamo mamma mi voglio tengo un'ultra no ho 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 tocca lui ho 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 he ho è ho ho Tutto fermati Ti sono trovo Ragazzi no skin mi piglia la roba No me l'ha preso Tutto venimi a prendere Tutto venimi a prendere L'amico mi ha fottuto la roba Venimi a prenderla Venimi a prenderla Amico mi ha fottuto l'overboard Ma guarda questo qua è proprio uno skin intelligente Minchia non me lo aspettavo Eh se ne è fottuto l'amico Un Antonio e non lo so No Sarò una vicino al capo Why non l'ho visto sono proprio ciecato minchia Oh tanto che significa ha fatto il robot Tutto Oh Eccolo la totto 49 Coming back Brega coming back Ragazzi cecchigiano To to chaotic Bello mamma mia Andiamo in safe Eccolo Ra gra andiamo in safe To talk o mw,ing back Comic tuck Comic back Comic back ma guarda un amico come strozzo al ciclo domani che bene la sif l'agenda data gente tutte le viste queste qua c'è stuprano totto c'è stuprano ma le sparate in merda come come si scende come non ti fai 5 di vita io è tutto il 5 di vita che vuoi ragazzi ho 5 di vita ragazzi stanno da me stanno mo li buss ma il nabbo che sta facendo ma da tu ragazzi ma l'amico no io guardiamolo la stagione 1 poi bella prima il spettatore più bella no no raga ma perché ma ancora 0 spettatori ma che cazzo nessuno sta vedendo la mia live poi il rispettatore bella bro è la massima e nonno tu che sta guardando venga scusate questi dissing rava scusate i dissing sono tanti totto cune mamma mia mamma ma mi sono messa alle 8 io l'ho detto pure a babbo quindi succo sogno sogno un cane sogno un cane ah c'è Andrea di chi che fa zucchi zucchi lo sai andiamo a zucchi zucchi andiamo a bannare se non è scena live da 3 secondi 3 che detto ho fatto live di voglio usare di dobbiamo essere ma che è zucchi zucchi mamma mia un altro lo skin nella nostra oh no 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 ti sbagli aveva maestro dell'una hop anche la chitarra e il ballo della chitarra no 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 ma io che c'era la volta toto facciamo questo video family fiendi raga ma questo è drogato male no non è poter oh mk ha tolto il team nostro vecchio ma 45 minuti perché vai appitato dopo la partita raga non è vero mai nella vita che non è attivata raga ma secondo me disattivano le armi raga qua mi stupra ma qua sta uno skin da me che mi vuole stuprare se quello l'ha trovato una R mi stupra ciao 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 accanto oh no dai voglio fare amicizia totto strade totto a terra totto totto sto facendo doppio pompa totto totto oh ti ho sciolto totto uccidio totto che cazzo fai totto totto di merda tua mamma totto io sto striscendo dietro di setto uccidetelo guarda come striscia bene ho totto alla mia il totto no il mio fatto guarda come striscia bene totto 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 ragazzi segnalate tutto tutto segnalate tutto segnalate tutto totto no totto la mia scheda totto spero che morio totto ormai questo video deve essere femmini femmini ti mandano gli strike totto se dici l'ultima parola abbandonato perché questo video deve essere femmini femmini e non devi dire parlo ragazzi sono litigando il live fai lì sui fratelli stare zitti non pigliare quella di altonio non la pigliare non la pigliare totto ok non la prendono ento se ti riesce l'occhio no te la meriti ma te la meriti te la meriti ciao ento ma io non voglio tanto se mi vuoi curare mi fa piacere tanto però che lutto mamma mia tutto tutto lutto mio mi capito che la prendevi mamma mia minchia ma la crin della vita ha fatto il live ma la crin della vita ha fatto il live ma che è fatti perché non è fatti non è fatti perché non è fatti non è fatti non è fatti nooo uuuu uuuu raga raga incredibile c'è su cristo è arrivato ma ti so se è bello uuuu 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 mamma mia ma questo è c'è suo uuuu ma chi è ma che ha fatto questo ma che ha fatto ma che ha fatto ma tanto se ti uccidono no basta tutto me ne vado che è niti signori ma buongiorno ho visto ma ci sei ma ci sei ma ci sei ma ci sei c'è totto c'è l'utto del letzte eeeh ciao ciao E' eeeeee butt explani puntassini puntbars strategy buttanni puntassini puntarsini ehi Tottolle pia vannoci eeeh può cantare azota un ragazzino ma noi eh ciao essa che vediamo ma ce l'ha a curare ma ce l'ha a curare, ma ce l'ha a curare, ma ce l'ha a curare questa banana, la amico galaxi l'amico non podiamo aggere lo spettatore siamo poveri riusci, è arrivato, non c'è Natale io farò la maratona, oh Natale, oh Capodanno, Capodanno, Capodanno no Totto perdiamo troppo tempo poi non possiamo entrare in serba altrimenti se io la accetti ti do una a me non lo ha mai, no veramente tutto la live, tutto la live toto tipo io dico il sito di per tutte le live se best e mi ti do e tutti i modi lo fa giubilio tutti si ricordi quando no toto si ricordi quando avevo venduto il giubilio non ce l'ho col ballo quando mi manca mi manca porco 2 ma con altri 5 no 10 mila punti xp sboc ballo feroce raga 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 andiamo a pinna la collina e vada finna dai dai ma fra 49 minuti e non è 49 30 vivo ma come se pensino bene rotto questo notto venita metà 8 mi piace a me a me ce ne metto e mi piacerebbe ma noi avevo pensato così prima vabbè anto scipe solo di a pinnacle o di un modo che non ha spade spade sponde 8 sponde no 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 io non io l'unica sfida che non ho potuto finire perché mi scocciava erano sfide quelli la per il deltaplano tempesta di ghiaccio totto tu un evento del deltaplano tempesta di ghiaccio l'hai fatto totto manco io sinceramente non ho sbloccato manco lo stile sblocca delle armi ma io invece avevo fatto con la di zonbi fortnite mare scuola il primo primo proprio il primo quando ti modo e ho capito quando è che si attiva tutto qua ci stuprono prima ma dai adesso quando si attiva la luna si attiva la luna vittoria 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 ma cazzo guarda la mia rossa guardi sempre la tua scatti in fretta quando avessi fossero secondo l'evento c'è saffronuturano quando c'è i delusos mi ha detto mio padre posso giocare perché oggi non ho giocato no regalo qua non si vedono i monitor un coltello raga no 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 me lo metto anton ho capito anton ho capito anton almeno no 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 non ammazza da una rega avevo messo questo mio anima rato rimane messo cecchino altro per facevo raga io vado a mangiare 100 minuti ma non era preaccesa e poi se non è tutto raga tenete si raga faccio prestissimo ve lo giuro raga tenete tutto da lasciata per sbaglio ci vediamo tra poco ciao ho fatto rimane messo in l'ottore non ho niente ma fai vendere prima me no perché si casmina spara di viva niente come lo ci deve e rimaniamo la qua e così la possa uccidere si prendiamo loot oh totto 20 minuti dobbiamo quittare fra 20 minuti no non ci stanno i monitor non ci sono no no totto questi monitor non è normale che ci sono è vero cazzo aereo a me si chiama qua il la trappolo a me si chiama la bansworth il rampino la smg tattica la tombstone l'infinity blade a me sinceramente può fare doppio dombo a me sinceramente x è un numero no totto ma su 20 minuti dobbiamo quittare perché ci crescerà la partita lo sai e che poi farà una modalità aspettiamo aspettiamo io è 45 atto io ho quittata mi sono preso il talut ah 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 si si a me 50 la live come quando ti vado a venti a te la live quando ero ah ok qui vuoi il passato lo voglio comprare tanto se mi regala il passato che mi regala tanto mi regala e un giarteschio e se esce poi ti posso regalare qualcosa regali tua e poi ti regalo di qualcosa a te ti piace la faccia del te ti piace la faccia del ranger teschio però questa quella mia piccola che tengo è il miglior piccolo del gioco secondo me è vero dai no no oh mi ha trovato la prova ad uccidere mi ciro mi ciro oh come ti ha curato non ci trovano non ci trovano lolo 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 stai qui ho trovato non ci trovano la prova è per 54 minute poi ce l'ho fatta prima di te la live si si Sì Vediamo Leo Abito ti aspettiamo Allora vado un attimo in bagno Vado un attimo dai Non mi frega Aspetta un attimo Vado un attimo Oh disattivato squadra Eccolo qua ritorno dal magazzino Guardaremo dai tu Ma che coso Odios È tolto aspettiamo Allora me reggo un poco La scelta è tua Ah ok Quello dobbiamo scegliere le armi tanto Quack Guardi gli squeak Tanto mettiamoci i messi da dove Per perché Tanto non fai lo strutto No Tanto dobbiamo aspettare Perché cattivamente Ma la partita finisce E poi non possiamo Vedere l'evento Tanto a 40 È a 40 L'ho messo pronto Merda Tanto Tanto non mettere pronto Che piccoli mi metto Tanto Tu che hai Uragano 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 Tanto Uragano Aspettiamo a 43 43 Oh Ragazzi Tu che potrei Ragazzi Votate tutti Thompson Thompson Adotto come io La chiamavo Come io la chiamavo Nella stagione 5 P.H.S Mamma mia A me Due minuti e mezzo E vado Un'ora di live Ragazzi Scrivetevi al secondo canale Che mi chiamo Mi sapevo E l'altro fanatic power Ragazzi Chiamate Mister Peto E di Di bella Ciao No Tanto E' appena iniziato Sono ora Che giovane Siamo fatto 5 6 Partito Brudello Senza vincere Che schifo Amma mia Eh 80 Ma penso La live Di Di Dragon Stick E di Martex Sono iniziati Dalle 9 No Alle 7 Quale Alle 9 Alle 7 Scusa La nostra Iniziata Dico Alle 7 30 Alle 7 40 Ma quanto passa Sto tempo Ah beh Sto posso Telefono a cazzeggiare Totto Quando è 43 Metti pronto Ma 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 Totto Sto Troppo Cidato Totto Sto Troppo Cidato Mi devo fare Qualuna Camomilla Velo Fare Ma Scegato Male Come Lo Se Come 15 15 15 18 15 18 Che cazzo Seta Fra No 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 Totto No Si Wow Come Mi Se Fa Dj Bassolino Fa Dici Lo Sai Ciao da sti, da Martì No, come fa? Oh, oh Che ci stai facendo? 8, 41? No, è 39, ma fa 40 Allora, a 42, io a 42 Ma, ma, mi sono messo un'ora e 21 secondi fa Ma, io ho detto, ma bacino non ho giocato Perché, sai, vedete, stai lento di merda D'ascolto quando mi viene in mente Che ne sono? 40 Che c'è, Ludovica Kaolgiadi? Ludovica 40 Sei bellissimo Totto, già è uscito, il maschio di lusso si è uscito Sterling, sterling Totto, la schiena, quella che faceva 24.000 Quella schiena che il tipo teneva, che non teneva i capelli Era calvo, però era tutto grigio Totto, è uscito due giorni fa Totto Totto, quella schiena là, che tipo Eh, la vestita col ciubbotto grigio Totto, 41 Ma che cazzo hai fatto, Totto? Vabbè Totto, ha messo chiena là, anzi, ma ci fa una camomilla Totto Totto, Antonio, ha parlato Totto, entra subito Totto, entra subito, Totto, entra subito, Antto Totto, io faccio la live Totto, entro, non so entrare Vabbè, totto, avvio, totto, avvio No, 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 raga, sono entrato, raga, sono entrato, raga, sono entrato Sottotitutto Mantieni il besinatore, mantieni il besinatore Attila, mantieni il besinatore, antò E in un momento, puremo la faccia felice Cheate! Oh, si può entrare! Manzo Sì! 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 parecchi come l'evento di marshmallow che era una lista squadra che durava 100 fino a 150 amore tutto questo evento questo elemento bella 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 perché connesso interrotto che cazzo cosa mi ha fatto adesso mi male dai vi prego mamma togliete tutta connessione tutta raga ho tutto sai che abbiamo un visitatore e devo ballare devi ballare freestyling tutto bella ragazzi bella ragazzi bella ragazzi ma ma non mangio con il cazzo raga 300 di pink ok 100 di 24 di bing 24 di bing 30 di bing qua regate ne ho 30 di bing ragazza a 30 di bing stai fermo non sto lagando sì sì sono le rigenerazioni come obiettivo 208 voglio 30 minuti tanto secondo me non ce la facciamo secondo me dovevamo aspettare di po 45 50 subito 6 cilini speriamo addio che non l'ago gesù per piacere non farmi la gara oggi raga mi faccio la bozza dei 50 pure raga scusate se sto fermo me lo farà live tolto fai meno uccisioni possibili tolto trenti finisce subito abbiamo fatto tre uccisioni 4 mai ragazzi ho fatto perdono l'amico oh ho sparato l'amico acquittato ma l'amico acquittato fatto quando ti possiamo la verso gli 80 90 dobbiamo buttare di uccisioni fatte allora ok tolto allora vediamo vediamo perché tanto poi quando succede all'evento le armi non ce l'abbiamo più lo sai penso che lo sai questo attenzialmente siamo fottuti è cresciato ma pure il modo deve cresciare lui ha bestemmiato i morti babbo io mi sono messo un'ora fa no 47 minuti fa babbo babbo guindimo lo stacco devi fare ancora l'evento tolto raga scusate se fanno il posto no 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 non lo spengo non lo spengo glielo ho detto solo a mio padre ma con me 100 di pink sto laggando il gioco è gioco no mamma mossa l'evento e che fatti che hai fatto che hai fatto che hai mangiato fatto e ho fatto in salaio e ho fatto in salaio tolto mangiare chiara ma per che connessione interrotta lo stacco sto 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 beh raga, io non penso che non la faccia la live, ma proprio adesso mamma, ti prego, vuoi vedere cosa è successo? non penso che non la faccia la live, ma non penso che non la faccia la live, ma non penso non penso che non la faccia la live, ma non penso che non la faccia la live, ma non penso la faccia la live, non penso che non la faccia la live, ma non penso che non la faccia la Stone, Il pomeriggio è proprio adesso, no? Raga, a me vedo se la vesco in mare. Vabbè, cioè, è quello il problema. Io tengo due di bingo e non mi fanno la live. Ok, scusate, adesso sto girando. Ma, no, dai, dai, non mi crociare, per favore. Ma perché mi croci? Cosa ti ha fatto di male con nessuno? Ma come c'è la vola e papicci? Maggia, a mangià? Domenico. Raga, dite, mi vedi, non vedi. ti prego ci sono dati un fuoco sempre bene raga giocati un attimo ok io so fedmo spero che non mi crescia gioco non mi cresciare gioco non mi cresciare gioco ti odio mamma qua dai raga raga no 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 allora raga quattiamo quattiamo raga raga quattiamo buttiamo raga ma sono 7 minuti beh andò fra 8 minuti sta levendo no no tranquillo ci fa entrare perchè prima ci abbiamo visto 5 secondi non mi sono andata che che 2 pancerotto c'è qua il buonadino del salame non mi sono andato no stai bene non è nata non è nata non è nata ma non è nata ma non ti ho di mangiare ma non ti ho di mangiare ci fanno ci fanno tanto forse ci fa entrare si vai let's go ma perchè Antonio non c'è e perchè non è entrato da noi ma noi non quittiamo non quittiamo anche per Antonio ah ma Antonio è entrato pensavo che non c'era pensavo che non c'era ma che è successo ad Antonio? wait Max oh sta Max no il live mio wait Max sta all'evento fra sei minuti no no non lo guardare Max guarda a me Max dice che sono un po' no Max non lo fare ok Totto ti muto se lo dice ancora ti muto ma chi è Max random è Max random amaro è bene guarda guarda ha mangiato un sacco di cose ma serio guarda guarda ha mangiato un sacco di cose guarda ha mangiato un sacco di cose la casa con i monitor ma i monitor non sono attivi oh Max ci sei ancora in live? Sì ci sto mamma mia tutto tutto però devi togliere la finestra togliere la finestra dai e shiru notato sono caduto un'altra volta max ma è il solo un pro solo l'abbo ma che buono no avrà ragione si ma perchè hai toccato la live oh max non sei iscritto al mio canale no no ma già era scritto ma ho visto mi arriva da molanti ragazzi faccio attesa mi dai l'arco di una metragietta mi dai l'arco sono forte quella mid con l'arco no 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 ragazzi ha detto non mi piaccia dopo 5 secondi mi ha tracciato max ma non riesco proprio a vedere ci vedo proprio con questa finestra siamo laggiù oh ma ma ci vedo malamente ci vede cosa fa maronno ti pare che questa cosa una live togliere live se crash no io l'ho messo c'è ancora dai me l'ho fottuto la kill tanto via dove sto io tu 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 Aaah ragazzi no me mi si preghi un morto no tu ti puoi cliente toi ti puoi tempi что ли tu uguale cooke ah ci fanno c'è anche c'è che cazzo e non sabe Ah, non c'è una bocca. Totto, vieni qua. Ma che c... Che? No. No. Aspetta, no. Sì, c'ero quattro, vieni. Dai, una non mi lascio. Una non mi lascio anche. Totto, ma io vedo. Hai cazzo, c... Totto, andiamo più vicino. Totto, andiamo più vicino. No. Ma che c... Ma che cazzo hanno fatto? Non lo so, Totto, non lo so. Un minuto, raga, un minuto, un minuto. Beh, Max, cioè... Mamma mia, la rigenerazione... Ecco qua. Un minuto e 18. Oh, Totto! Fai calimento! Fai calimento! Dai! Tocca, non dice la finita, tutte le armi. Tutto non dice la finita. Totto! Tutto non dice la finita. E non posso piccolare la gente, raga! Raga, dove vado qua? Raga, guardate, guardate, è sufficiente. Quanto secondi, raga, venite da verso io, raga. Io sto ballando... Raga, io sono in mezzo. Olcilla, io sto oscilla. Mi sto ballando qua, percorno. Io sto ballando qua, percorno. Dove? Dentro al cerchio. Ecco, gli raffi! Ecco, gli raffi! Antonio, ti vedo, ti vedo qua. Sto qua, guarda, raffi! Mamma mia, quanto lag, quanto lag, raga, ho dentro, quanto, di tra questa gente. Tutto, tutto, tutto. Comento, ti vedo, ciao. Due secondi! Zero! Raga? Deve sta? Eh, ma what the fuck? What the fuck? Ma che c... Ma che c... Ma dove siamo? Ma dove siamo? Ma dove siamo? Oddio! Oddio! Ma raga, ma che c... Raga, io vado a votare. I lampini! Tutto sta! La Tom, sono la... Raga, la musica della stagione 1! Tutto! Raga, la musica della stagione 1! Guarda, la Tom, John! Gli aeri, guarda, raffi! Le cose che hanno fatto! La spada! Ma che è sto cerchio? Beh, le cose si possono piccolare! Togliono 50! Togliono 50! No raga, piccolate la... Raga, ma perché tutti quanti con la SMG tattica? Ecco, Tom, sono raga, Tom, son! Raga, andate a piccolare la SMG tattica! No, Tom, son! Io sono la Tom, son! Io sono la Tom, son! Raga, se c'è la SMG tattica... O bestemmia! Dai, ero pure a questa cosa! Oh, raga, che arriva per primo, praticamente! Raga, siamo... Siamo pari! Dai, raga! Ragazzi, siamo pari all'SMG tattica! Dai, 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 dai! Dai, raga! Tom, son! Tom, son! Tom, son! Oh! Tutti, Tom, son! Ne sto piccolando un botto! Pure io! Ma, se dimmi, se vedevi rompere... Sì, come! Oh, siamo di più, siamo di più, siamo di più, dalle SMG tattico! Siamo di più! Tom, son, 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 Tom, son! Siamo di più, dalle SMG tattica! Max, guarda, Max! I rampini, se ti stanno fregando, proprio! Manco degli infiniti di Blade! E' un poco dell'aereo! Poi, era un poco dell'aereo! E' un poco degli infiniti di Blade! Ma proprio poco! Pocchissimo, cioè, raga! Raga, sta vincendo la Thompson! Sta vincendo la Thompson, dai! Sta vincendo la Thompson! Stai vincendo troppo la Thompson! Raga, dai, alla Thompson! Sta vincendo la Thompson! Thompson, Thompson, dai, Thompson! Ma quant'è mi da, Thompson? Raga, si sta sbloccando! Che poi, Capitan Bladezer votava per rampino! Vabbè! Dai! Sta vincendo la Thompson! Ha vincendo la Thompson! Ha vincendo la Thompson! Quella RIS! Thompson! Dov'è di qua? No, ma quant'è l'ho! La musica è tutto! Ma Thompson! Thompson è rivenuto! Ma che cazzo? Che cazzo sta succedendo? Non so capendo niente! Ma che cazzo? Ma il burcano è ruttato! Il burcano! Il burcano! Il burcano! Ha vincendo la Thompson! Ha vincendo la Thompson! Ha vincendo la Thompson! Ma che cazzo sta sbloccando il burcano! Ma quel burcano va a Pinnacoli! Quel burcano va a Pinnacoli! Me lo sento! Ha corso! Ha corso! Pinnacoli! Sì, sento a corso! No, ma di sotto corso! No, no! È vero corso! No, no! Ma va pure a Pinnacoli! Ma va pure a Pinnacoli! Dov'è Pinnacoli? Eh, è Pinnacoli! Che è? Ma non lo farei da me? Sì, ma vengo! Capito, ci vado! Ma non sei mai da me! Yes! Ma che piccolo! No, dove è andato? Picco! Un altro! Lo sto facendo un moto di screen! Ma non ne prego niente! Ehi! Che è Pinnacoli! Sì, ho visto! Ma devi morire in sta città di inverno! No! Povera Pinnacoli! Oddio! Il terremoto! Non c'è Pinnacoli! Non c'è Pinnacoli! Non c'è Pinnacoli! Ma stai scendendo piano piano! Non c'è Pinnacoli! 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 Dove è andato? Non c'è Pinnacoli! Non ci credo! Guardate Pinnacoli! Guardate Pinnacoli! Non c'è Pinnacoli! Non ci credo! Salva le clip! Salva tutto! Ah, non c'è Pinnacoli! Non ci credo! la locca Non c'è pinnacoli Lo so Pura picco Ma pure a picco volare o l'hanno distrutto Raga Totta ha vinto la thomson Totta ha vinto la thomson comunque Si si Ha vinto la thomson La thomson Totta però Prima stava vincendo la sm Totta prima stava vincendo la mitraglietta tattica Se vincere smg In modo Ha dato prima abbiamo fatto le ultime partite a pinnacoli Di prima Totta ma se andiamo a vulcano che succede? Mamma sponda ancora chiuso Ma ho chiuso Raga Ma qualcosa sponda che fine farò? Ah raga hanno rotto pure a picco Dopo andiamo a picco Lo sai è andato un metro di da picco Si raga hanno rotto da tutto Raga hai visto cinque a pinnacoli Non uno non due ma cinque cinque No quello di corso Quella città si dovrà togliere Quella città Pure il picco No 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 Andato al picco Non siamo andati al piccolo No è andato giù al picco giù E al più picco poi la era andato Totta con che ha vinto Stava vincendo la mitraglietta tattica Però ha vinto la tamburo Tutta la lobby Pure io povera pinnacoli Angelo Tutta Roma Vi giuro su tutto Tutta la lobby è andata sulla mitraglietta tattica Con la lecchia All'improvviso Non sappiamo da aver successo Da di cosa vince Da di cosa vince No no Tu vuole acquittare Ma sei pazzo Sì papà sta partita Papà è capitato E' stato assupegno E' stato assupegno Ma cosa hai visto? Ma come me non riesco a fare mai una kill? Ma come me non riesco a fare mai una kill? Bua guarda che me non riesco a fare mai una kill Raga secondo me Ma lo sai che faranno? Le sfide del vulcano Sicuramente Come in ogni evento Io non ho visto Io non ho visto Io non ho visto Io non ho visto E' vero Molto E' vero no è raga pinnacoli è morto ci ha lasciato pinnacoli c'ha lasciati ok oh Hai visto ora che con le studi stanno spesso? Sério? Sì. Ma dai vado a mangiare qualcosa andò, se succede qualcosa chiamami. Mamma mia che venti! Cosa c'è un luogo? Prego! 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 guarda un'angaragina vabbò guarda una cosa vieni qua vabbò vabbè la un'angaragina hai visto che tu stai là io stavo qui au arrivo 1 un'angaragina un'angaragina Mذه Di un'angaragina Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 laggiù Madonna mi sembra proprio pinnacolo Ma come c'è? Il vulcione ha buttato scalini manco e morto Che cazzo Madonna rega i magazzini No No Non ci credo Dove è tomato danno Dai che cazzo però No I mo li avevano fatti I mo li avevano eliminati I mo li avevano fatti Questo è bene Questo magazzino sta dalla stagione Non manco mura Raga mi sembra molto season 4 Questo scenario Che cazzo fa amico mio U è rimasto qua Oh Oh Dai Dai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ragazzi, chiudo la live. Ragazzi, vediamo bella...